ciao mondo oggi vediamo come fare il temaccia freddo col ghiaccio un cocktail estivo molto fresco si prepara l'acqua calda il chasen il temaccia e lo si mette all'interno di una ciotola lo si fa lo si frusta col chasen finché non forma la schiumetta e poi si prende il ghiaccio è finito il ghiaccio mi passi un po di ghiaccio grazie 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 adesso faccio il cocktail grazie mille mi serviva proprio grazie grazie a tutti